Buongiorno a tutti, l'attività di Mandelli Arte prosegue frenetica, il sabato scorso abbiamo inaugurato una mostra magnifica dal titolo Caledoscopio, come dice il titolo, una mostra variegata, colorata, ricca di bravissimi artisti e opere adatte a qualsiasi tipo di collezione, anche le più giovani e opere adatte anche per regali di ogni tipo. Prosegue poi l'attività di Praline per ribattezze nel mondo dell'arte, l'ultima è dedicata a Angelo Dozzo, la numero 96, la trovate già caricata in rete, è un artista magnifico che ha conosciuto una fortissima rivalutazione negli ultimi tempi. Infine, Praline in TV, appuntamento martedì, mercoledì e venerdì ogni settimana, quindi su Arte Investimenti, canale 133 da Digitale Terrestre e 868 su Sky, quindi se volete vedere delle belle cose dovete venire da noi, perché? Perché Mandelli ha soltanto quadri belli, ovviamente.